Ecco abbiamo appena finito la benedizione delle zocche, dei maturanti, è un'iniziativa che come pastorale giovanile portiamo avanti ormai da qualche anno per salutare i ragazzi che si preparano alla maturità e fare loro gli auguri in maniera un pochino più sentita. Dietro di me vedete tutti questi 50-60 ragazzi di varie scuole di Iesi, dal scientifico passando al cupari, al classic eccetera sono tutti ragazzi che magari durante l'anno intrecciamo o come insegnanti di religione oppure con attività pastorali qui alla Casa Crossroad che è la casa di pastorale giovanile. Hanno portato amici, hanno portato le loro paure e i loro sogni e hanno portato pure qualcosa per cenare insieme e adesso si festa un po'. Grazie. 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 Grazie.